Il Tribunale ha pronunciato la seguente sentenza e i confronti di giornata di stanzo, il posto aperto, Circa e Nicola, Caminino, Sarriolo Roberto e Stagio di Banco, Saravatello e Gennarmi, Ioris Cinzia. Visto l'articolo 530,2 assolve Ioris, Circa, Caminino, Saravatello e Gennarmi da tutti i reali e i loro riscitti e i loro riscitti, del fatto che non sussiste. Visto l'articolo 530,2 assolve Ioris, Circa, Caminino, Giordino, dei reali e dei scritti, fatte eccezioni del capo 2. Rosso e Chessa, dei reali e dei scritti, fatte eccezioni del capo 8, Sarriolo e Roberto, dei reali e dei scritti del capo 3, perché il capo non sussiste. Visti gli articoli 533-5455B dichiati, un genuto d'estambolo coltievole, vi ho reato il capo 2 che ritenuto che gli atteggiamenti generi, profondati alla pena delle nuove di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, concedere il mutato e gli occhi benefici. Visto l'articolo 317B scolice penale che ha rappresentato l'intervento dei pubblici uffici per la durata di un numero. Visti l'articolo 535-535B dichiati, Slaviolo, colpevolo, del reato di quell'articolo 819,1 codice penale, non si è diversamente qualificato il reato contestato a 4, che riconosciuta la continuazione con il fatto di di scala di consentenza, porto da Ferro Solino, 12 dicembre 2011, il renotato di 24 anni 2012, da ritenersi più grado. Lo contanna, per la pena, inesigui di reclusione al momento. La rivedermina, continui, la pena complessiva, in anni di ruolo di reclusione. Visti l'articolo 521 e 331 codice penale, dispone, conservato in anzi alla restituzione del reato della propria sede, nei confronti di OSS e PESSA, per scappo a porto, non è nei confronti degli altri soggetti richiesti del futuro ministero. Visto l'articolo 154 codice penale, manda alla traccenderia di trasmettere copie della dichiarazione di estensione della punta, per la punta, per Paolo Tornaggio, in casa 421, da Salimic, e dei percambi di Piedica, 11 luglio 2013, e il 4 ottobre 2013, al consiglio dell'ordine degli abvocati di tradizione, per i contenuti, per i contenuti. Il suo libro, il 149 penale, dispone, con viste, con la tradizione e le attività senza sequestro. Visto l'articolo Grazie. Grazie.